Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Max Mosley, lo storico presidente della Federazione Automobilistica Internazionale, morto a Londra all'età di 81 anni, considerato tra i dirigenti più importanti del motorsport, ha portato alla Formula 1 moderna innovazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, specialmente dopo la morte di Ayrton Senna nell'incidente avvenuto il 1 maggio a Imola nel 1994. A confermare all'agenzia la morte di Mosley è stato il suo amico e collaboratore Bernie Eccleston. Max era come un membro della famiglia, per me eravamo come fratelli. Sono sollevato che sia andato perché aveva sofferto per troppo tempo, ha spiegato l'ex patron del Circus come riportato da Sky Sport.